Siamo a pochi giorni da Natale ragazzi stiamo cenando qui il mio panino se vedete è nel forno questo è dei max bell'unti e bisunto unto e bisunto e qui c'è la Lucia ciao ragazzi stiamo andando anche lei il suo panino con i salumi guarda che baffi che c'ha cosa chi chiama quella? Chef Rubio eh Rubio ah tu lo conosci come Chef Rubio vabbè lei con il nome Rubio che è quella risata sarcastica e tu mamma sei dedicata la lama come oh che baffoni possibile che arriva da quei baffi bene c'è per la extension comunque qui stiamo mettendo d'accordo per la spesa perché c'era il grande evento ho detto video a morire video a go go immagini il 25 la mattina ragazzi purtroppo una volta in son video buon appetito e lupini siano lupini che poi non si dice lupini lupini eh eh sono lupini 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 fresco la vera storia di Chef Rubio eccolo eccolo wow Carmen Russo con le tette da fuori quant'è bella a dopo si fa finta di dormire lo dice pure faccio finta di dormire mentre io sto attaccando mentre io sto attaccando la registrazione lui dice pure faccio finta di dormire si vede mentre sta chiudendo gli occhi cioè ragazzi non sapevo che stavi registrando è sciocca se aspettassi un minuto per meno una piccola recita facciavano ogni tanto e si fai sempre quella è base la scaricola fai sempre quella quella che ti fai finta di dormire quando poi alla fine dormi veramente oggi record è record chi reso uno dieci e mezza le undici meno venti meno dieci come dire c'è il procinto di andare a Ninna si ragazzi fa freddo fa freddo non c'è niente in tv e cosa sai a fare una volta che c'è nota che fai? come il pomeriggio come il pomeriggio che c'è il paghien il paghien ma boh ragazzini ci hai detto poco in questo video poco e niente è vuoto questo video è vuoto come un sacco vuoto guardate lì c'è la cuccia di Lily è lì lì che ancora non so dove deve fare l'uovo guarda gira vaga ma deve sentire l'odore di tutte cose l'odore ma si sente l'odore no vai 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 via beh ragazzi io vi do la buonanotte oh sto qua si ciao ragazzi buonanotte no vabbè non si è detto niente dai quindi non si è detto niente perché io do io si do io faccio fine che do no vabbè no vabbè